La percentuale del contagio in provincia di Brindisi è seconda solo a quella di Foggia e i numeri record sarebbero causati soprattutto dalla gestione dell'emergenza da parte dell'ASL. È durissima la lettera con cui le organizzazioni sindacali e le associazioni dei medici ospedalieri di base attaccano il direttore generale Giuseppe Pasqualone contestando le sue dichiarazioni con cui invece assicurava che tutto sta funzionando per il meglio. Nella lettera si giudica scellerata la decisione di scegliere il perrino come ospedale covid scelta che avrebbe costretto la struttura ad abbandonare l'assistenza a pazienti con patologie croniche. Sarebbero sbagliati anche i percorsi che avrebbero dovuto evitare i contagi e che hanno reso invece le strutture ospedaliere della provincia le fonti principali di trasmissione del virus. Le associazioni dei medici sottolineano come i dati dicano che negli ospedali del Brindisino vi sono pericolosamente più sanitari contagiati da covid-19 di quanti ce ne siano nelle altre province. I medici parlano di colpevole ritardo da parte della ASL di Brindisi nel non aver attivato per tempo un laboratorio di biologia molecolare per processare in loco i tamponi, test che ancora oggi non sono del tutto sufficienti per uno screening in tempi brevi di tutto il personale sanitario, non solo quello del Perrino ma anche degli altri presidi ospedalieri della provincia.